Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Football Manager 2023 per proseguire la nostra avventura con la Juventus. In questo episodio vedremo le partite contro Torino, Lipsia e Udinese. Ho messo già a punto la formazione di scendere in campo nel derby della Mole contro il Torino, gli ultimi non sono stati molto fortunati e sarà questa qui. Audero, Mucchiele, Scalvini, Sole, Doig, Fagioli, Copminers, Casadei, Rafinha, Colombo e Vahì. Quindi avevo ancora indisponibili Rafinha, Odoruzola e Bremer e Caronesecchi e quindi sono stato costretto a fare un turnover un po' parziale, diciamo così, perché comunque nella prossima conto magari di mettere un Vardiole, un Pogba o questi giocatori così. Però insomma, Giambaldanzi o Miretti possono fare le ottime riserve, possono subentrare Idem Blaovic, anche perché anche lui non è proprio al top della forma, e quindi ora andiamo a vedere la formazione di Granata. L'Eco Schiera, Mininkovic Savic, Calavac, Voivoda, Buongiorno, Zappacost, Ricci, Netti, Region, Andre Anderson, Miranchuk e Sec. Copminers, dietro per Sole, la raga per Doig, Doig ancora per Copminers, Casadei, Vahì, bel passo di approfitta per Colombo e Colombino, mamma mia, stava per segnare il primo gol. Copminers, punizione. Uh, Rigorino, Rigorino, mi ero anche un attimo perso la battuta del calcio punizione. Rigorino, vediamo il VAR che cosa dice. Rigore concesso, attenzione, non so a minamenti chi tirà, un mancino. Bene, chi sarà? Copminers. Oh, parato, signore. Rafinha dal calcio d'angoli in mezzo per Colombo e Colombo. Diciamo rimedia a lui di Copminers, dal dischetto e batte Mininkovic Savic. Punizione ancora per noi, Copminers in mezzo, Scalvini, Traversa e Sole la manda fuori. Madonna, da dove? Statistiche totalmente a nostro favore, ma, ripeto, dobbiamo fare il secondo, ragazzuoli, perché sennò qui rischiamo veramente di, insomma, di non portare a casa la partita. Va chi? Dietro per Casadei. Raga per Doig. Copminers ancora per Doig. Casadei. Ora Rafinha in possesso. Che sbaglia, mamma mia. Rafinha, mortacci tua. Meno male, meno male. Io comincio a fare qualche sostituzione, allora, e toglierei, mamma mia Scalvini, toglierei, metto dentro un TT, e sposto Sole sul centro-destra, poi tolgo Doig e metto Guardiol, metterà anche Toricchia, però, boh, a rischiare non mi va, e poi tolgo Rafinha e metto dentro, dove stai, Baldanzi, e niente, però andiamo avanti così. Vagna al rinvio, prese da un TT, Casadei, madonna mia, cosa, 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 ma meno male, meno male che sai che non vedo la porta neanche, con la guida. Allora, adesso vado, in tattiche, vediamo se posso cambiare qualcosa, perché allora, vado con il nostro 4-4-2 fidato di questo periodo. Allora, tolgo Fagioli e metto dentro, metto dentro al posto di Fagiolino, metto dentro Miretti, e al posto di Copminers metto dentro Pogba. Vediamo così, ragazzi, Mucchiele la rimessa per Colombo, ancora Mucchiele, Mucchiele, bravo, Solè, Solè, madonna mia che ansia quando trattengono così palla, Audero per un TT, para a Pogba, Pogba per Guardiol, Guardiol avanza, palla al piede, la allarga per Casadei, Casadei entra sul destro, per Miretti, Miretti tira, attraversa, punizione del Torino, su uso al Torino, vabbè, comunque, lasciamo perdere, sbilanciatissimi, Colombo per Pogba, Pogba per Guardiol, siamo uno con, tanti contro uno, per Vai, Vai, e Vai la chiude, e Vai la chiude, sull'assist di Guardiol, revisione var però perché potrebbe essere fuorigioco, rete annullate, infatti, aveva avuto il sentore, infatti, si vede che il Vardion non è abituato a fare questi tipi di giocate, Ghinetis, per voi Voda, siamo al 91esimo, bravo Mucchiele, Miretti, Miretti, giocala bene, vai per Colombino, Colombino, Colombino salga sul sinistro, palla nelle mani di Minkovic-Savic, Umtiti, per Miretti, larga per Mucchiele, Mucchiele per Miretti, Miretti per Colombo, ma porco il mondo, siamo al 92esimo, meno male, meno male, palla però per Voivoda, bravo Baldanzi, qualcuno, penso che sia stato Baldanzi, Minkovic-Savic, lunga, Karavec, come cacchio si chiama, Spendi, bravo Pogba, Colombino, dietro per Mucchiele, teniamo il pallone, Baldanzi per Mucchiele, 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 poi in avanti per Colombo, Holberg, mamma mia che ansia, Holberg per Kalavac, buongiorno, buongiorno per Kalavac, dietro per Vagnaminkovic-Savic, mamma mia che ansia, Izzo, palla lunga per Izzo, prova che prendiamo il gol meno male, ragazzi, abbiamo rischiato la follia, stiamo rischiando la follia, vai, vai, vai per Zappac, madonna mia, madonna mia, ma guarda che cosa devo subire io negli ultimi secondi di... no ragazzi, no, meno male, ma... grazie Toro, grazie Torino, grazie Torino che questa partita non ha visto la porta neanche col binocolo, noi eravamo super cotti, però, mani sui fianchi, mani in tasca, se l'abbiamo scampata, mi dispiace Audero, Gori, Angelinio, beh Angelinio tu sei fuori dai progetti, però è vero, l'abbiamo scampata sta botta, eh. Ed ecco qui la formazione, scendere in campo contro il Lipsia, Audero, Mucchiele, Scalvini, Blemere, Guardiol, Fagioli, Coppens, Pogba, Shovoshlai, Vlaovic e Vito Arroche, il tecnico Marco Rose, Schiera, Mamardashvili, Klosterman, Simakan, Bassi, Raum, Leimer, Blind, Novoa, Nkunku, Demsgort e Seshko. Scalvini, per Fagioli, siamo al terzo minuto, Pogba conduce il pallone, Largo per Vito Arroche, ma palla nelle mani di Mamardashvili, rinvia lungo, rinvia lungo, rinvia lungo, palla lungo ovviamente per Seshko, Seshko un bello spirito lungone, che abbiamo avuto durante la carriera con il Salisburgo, Blemere per Coppens, ancora Blemere, per Scalvini, palla larga per Guardiol, Guardiol per Vito Arroche, ancora per Guardiol, scambio con Pogba, bella palla per Soboshlai, il tocchettino, Blemere per Pogba, che si fa rubare la palla, da Seshko, Novoa, Novoa per Blind, Leimer, Leimer palunga per Nkunku, per me era fuorigioco, però insomma, l'arbitro non l'ha fischiato, e tant'è, Rao, rimessa laterale, verso Nkunku, ma Cobb Miners, frega il pallone, Vlaovic, spondito per Fagioli, Vito Arroche, mamma porco mondo, bravo Scalvini, che si fa fregare la palla da Leimer, oh, diritto verso la porta, per Demsgott, giusto così ragazzi, rimessa dell'Ipsi con Closterman, ancora Closterman, per Simakan, Blind, dietro per Simakan, Blind ancora, Seshko, boom, non male Scalvini, ma porco mondo, ma Vlaovic, ma neanche un appoggio riesce a fare, ma neanche un appoggio, ragazzi, male male, male male, male male, io ho le mani sui fianchi, voglio uno spettacolo molto diverso, io qua ragazzi vado, io vado in cambio tattica, vado con il 4231, allora vediamo, chi è che sta facendo un po' schifo, allora, minchia Mucchiele, metto dentro Doig, ragazzi, dobbiamo fare qualcosa sui terzini, perché veramente siamo molto, molto, molto scarichi, in quei ruoli, allora, per ora andiamo così, con Copminers dietro, che sta giocando bene, e vediamo un po', siamo quasi alla mezz'ora, facciamo qualche cambio, un vito al rock infortunato, e quando mai nella vita, mamma mia, mamma mia, tolgo fagioli, e metto dentro Casa Day, deludente, tolgo scalvino, e metto sole, tutti morti, andiamo così, io tento l'ultima mossa, signore santo, ha ragione, chi dice, in Italia leoni, in Europa coglioni, a Mardashvili, per Gertruida, blind, per Simacan, che dira, Novoa, Novoa, impressi, qualcuno ci vada, per Zeus, mamma mia, che morti, mamma, che morti, Damsgar per Nkunku, bravo, vabbè, e vabbè, incommentabile, due gol per due errori, Sole e Scalvini, e qui ragazzi, volano bottigliette, non siamo sempre abbastanza bravi, santo cielo, sì, la prima nostra sconfitta in Champions, però ragazzi, se è partito 8 punti, è veramente vergognoso, veramente vergognoso, qui ragazzi, è tosta, è tosta perché, è roba che, se non portiamo avanti, le aspettative societarie, per l'Europa, sono, sono cieli senza zucchero, non perdevamo da, insomma, da un bel po', poi dopo ci rimane, Club Bruges e Lens, vabbè, ci rimangono ste due, però, le vince assolutamente, ultima partita dell'episodio, quella contro l'Udinese, dobbiamo rifarci, dopo la bruttissima sconfitta, contro il, l'Ipsia, e ci daremo in cama, appunto con, Audero, Mucchielli, Scalvini, Bremer, Doig, Fagioli, con Mainz, Pogba, Stovo Schlai, Dietro Vlaovic, e Vitor Roche, vi dico, sto già trattando, un nuovo terzino destro, contando che, poi Doig e Guardiol, li consiglierei come coppia di sinistra, per ora andiamo a vedere la formazione dell'Udinese, anche perché comunque non c'è ancora nulla di ufficiale, Sottili Schiera, Silvestri, Perez, Biol, Ebo, Se, Esibue, Sanz, Masina, Díaz, Samarzic, Cabral, e Cabral, cioè, Jovene Cabral e Artur Cabral, Neuven Perez, per Esibue, ancora Perez, dietro per Biol, Díaz, scambia con Neuven Perez, Esibue, ancora Perez, dietro per Biol, bravo Vlaovic, chi va in pressing, uno contro uno con Silvestri, non sprecare, e spreca, Mucchieri della rimessa per Fagioli, Fagioli dietro per Scalvini, Cobb Miners, allarga per Pogba, Soboschlai, allarga totalmente per Doig, che scambia con Pogba, Pogba per Soboschlai, uh, mamma mia, tutti in pressing Soboschlai, nooo, porco mondo, porco mondo, porco mondo, allora, dietro per Sanza, ancora Masina, ragazzi, eh, che, che, che puntata di merda è? Biol, Biol per Samarzic, bravo Mucchiele, Mucchiele per Fagioli, Vitor Roche, in profondità per Soboschlai, Soboschlai per Vlaovic, mmm, secondo me è fuorigioco, infatti, tant'è, magari di poco, però, il gol era, comunque era fuorigioco, e neanche di poco, Doig dalla rimessa, per Cobb Miners, ancora Doig, Soboschlai, Soboschlai, scambia con Vitor Roche, madonna mia, ma una, un passaggio fatto bene, riusciamo? Santo cielo, Scalvini per Mucchiele, Mucchiele per Vlaovic, Mucchiele in appoggio, Mucchiele ancora per Vlaovic, Vlaovic per Vitor Roche, bella palla per Soboschlai, in profondità, questi non ci danno la profondità, e noi andiamo lì, a dare la palla in profondità, e come, per magia, c'hanno la palla ancora loro, Masina per Cabral, questo pure è fuorigioco, però, arbitro, questo è fuorigioco, e divisione VAR, rete annullata, aveva avuto anche in questo caso il sentore, vediamo un pochino, Masina, sì, in due ne erano, Masina, per Samarzic, Cabral, Mucchiele interviene prima sul pallone, che non è di passaggio, Mucchiele ancora, Mucchiele, palunga per Vlaovic, Vlaovic per Vitor Roche, madonna, che gol, bell'assist di Vitor Roche, e, con una mezza volè, non ho capito bene, Vlaovic, buca Silvestri, in extremis abbiamo fatto il gol del 1-0, però, insomma, come sempre, dobbiamo, eh, singere i pugni, possiamo ancora far meglio, perché, in queste partite, se non fai secondo, Ebossé per Alvaro Sanz, Biol per Diaz, Diaz in profondità, uh, traversa, Mucchiele, a lontà di testa, Samarzic per Sanz, Sanz per Diaz, ancora, Samarzic, Bravo Copminers, un baffallo di Copminers, punizione udinese, come viene Cabral, Cabral, palla fuori, Masina, da rimessa per Sanz, ancora Masina, Cabral, Cabral, palla lunga, per, per l'altro Cabral, Mucchiele, interviene, Scalvini, Fagioli, Mucchiele, madonna, santissimo, il clero, bravo Bremer, per Doig, dietro ancora per Bremer, Scalvini, larga per Mucchiele, Mucchiele avanza, nessuno che si fa sotto, Vlaovic, bella palla per Vitor Roche, Vitor Roche, Scafettino, traversa, io vado a fare qualche cambio, che è ora, tolgo Copminers, e metto dentro, Miretti, tolgo Vlaovic, e metto dentro, Colombo, tolgo Roche, e metto dentro, Vahì, e, santo cielo, e, tolgo Mucchiele, per forza, e, cambio fascia Doig, e al posto di Mucchiele, sulla sinistra metto, Guardiol, andiamo così per qualche minuto, va, facciamo l'ultima situazione, siamo, non dico cotti, de più, e, tolgo Fagioli, e metto dentro, Casa Dei, è esposto, Pogba Mezzara, Casa Dei, come, c'è una pista di quantità, e, andiamo così raga, dog da rimessa, siamo al novantatresimo, Pogba, per Vahì, sobo slide, dietro per Miretti, Casa Dei, Casa Dei, per Colombo, bella pala di Colombo, per Vahì, e i due, la risolvono, assist di Colombo, e i letti di Vahì, ragazzi, Vahì in profondità, è letale, zitti zitti, abbiamo portato a casa, il risultato, anche perché loro non hanno mai, praticamente tirato in porta, e andiamo un pochino, ovviamente braccia distese, ben fatto tutti, a me, in campionato, la squadra, mi super soddisfa, però in Coppa, ragazzi, zero al quoto, allora, aspettiamo che i giochi, i giochi, non il Napoli e l'Inter, e poi facciamo le considerazioni finali, l'Inter batte il Napoli, ragazzi, attenzione, e quindi la classifica, dice così, Napoli prima in classifica, a 42 punti, noi secondi a 42, poi ben sette punti, di stacco, dall'Atalanta, dopo che l'Inter, 8 punti, e, insomma, giù a scalare, ragazzi, delle posizioni in campionato, sono soddisfatto, però, ragazzi, a me ripeto, è il discorso in Coppa, che mi mette un po' ansia, perché veramente, non mi piace assolutamente, come stanno andando le cose, e niente, nel prossimo episodio, vedremo tre partite in casa, contro Fiorentina, Napoli, il big match, e Lecce, quindi, fatemi sapere qui sotto, cosa ne pensate, vi mando un abbraccione, e ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi!